Allora, siamo molto contenti della partecipazione di Cittadini di Correferro, un grande momento di grande partecipazione democratica, sono contento del risultato di Pierluigi, risultato molto importante e da qui ripartiamo domani mattina con il centro-sinistra fino al 17 maggio, perché adesso il nostro secondo obiettivo è il 17 maggio. Pierluigi? Io prima di tutto ringrazio Diana per aver introdotto la sua dichiarazione, ribadisco che è una vittoria democratica del centro-sinistra, siamo soddisfatti di questo risultato, siamo soddisfatti che insieme alla nostra gente siamo riusciti a dare una dimostrazione così importante a tutta la città e anche a tutti i bufi che in qualche modo ci hanno accompagnato in queste settimane. Correferro inizia oggi un percorso in cui il centro-sinistra è forte e affronterà le elezioni di maggio con forza e con vigore, anche con rinnovamento, contro invece ci sembra di vedere un po' gli spettri del passato. Noi siamo pronti ad affrontare insieme gli spettri del passato. Grazie, bocca al lupo. Grazie. Grazie.